Chiamo sul palco Giulio Andreotti di Finale Miglia, dal 2010 regista della compagnia filodrammatica finalese, detta compagnia dal piver, ho detto bene? Dal pere! In provincia di Modena ci sono solo 54 dialetti, con tante tante pronunce in più, quindi compatibile, no? Ok, allora lui si cimenta anche i ruoli di attore, ma adesso gli diamo la parola come poeta. Giulio Aleotti. Aleotti, scusi, scusi, avevo confuso con Andreotti, erano stati gli occhiali che avevo confuso. Non so neanche un montante parete. Mi scusi, mi scusi. Allora, niente, visto che abbiamo la primavera che tanto la stiamo aspettando, il mio brano che vi porto, diciamo, a primavera. L'unico che arriva finora è il vincente per la cervicale. Allora, primavera. Sono ad campagna, a criva da lontana, portata un vincente a stussiglia, coa d'inverno che ancora al mosca e ancora al psiglia. Al mio cuore, una volandra che la presa la tolì in mano e la porta su pian pian, la tira al filo, la scaravolta, la pirouette, la curtrè la socoa come un gatì e poi la plana dolsa me quando amava la cuna al sottino. Allora, il mio cuore primavera, una volandra colorata che la donna la so impostata e la guarda un botì in mezzo a un prà che con un filo in mano al cor finca al gafià. Grazie a tutti.